L'Ofarelli è una commissione permanente sui trasporti che tenga conto della legalità e della trasparenza. Parliamo di questo strumento, di che si tratta? Allora, questa è un'importante proposta che come a su dire abbiamo rivolto all'autorità di sistema portuale e devo sottolineare è stata accolta subito, nell'immediatezza, con parere favorevole e quindi l'attenzione che si dà a questo settore, soprattutto alle regole di questo settore, è stata ben accolta dal Presidente, successivamente dal tavolo del partenariato e quindi gettiamo le basi per iniziare un lavoro importante di monitoraggio affinché la legalità sia il valore aggiunto delle imprese. Quindi cerchiamo di lottare ad armi pari tra imprese, quindi le imprese che si giocano la partita armi pari riuscendo a sostenere il costo della legalità e quindi stando con tutte le regole previste e anche a favore del proprio personale. Questo è anche un segno, un segnale di una interazione che ormai gli autotrasportatori di Cidavecchia stanno avendo anche con i centri di distribuzione e logistici laziali. Abbiamo ricordato il centro di Santa Palomba, Pomezia, ma soprattutto anche il CAR, il centro agroalimentare romano di Guidonia, oltre anche tante realtà, perché poi insomma ormai gli autotrasportatori di Cidavecchia raggiungono diversi luoghi. Ma la cosa importante è che insomma che qui vengono di nuovo rispettate a Cidavecchia delle regole che sono le regole nazionali in materia appunto anche di prezzi minimi e quindi evitando il dumping su questo profilo. Quindi noi ci auguriamo che questa commissione possa subito fare commissione o gruppo di lavoro, possa subito fare il suo lavoro e assicurare così uno sviluppo ordinato nel rispetto della legalità di questo settore, che è molto importante soprattutto per lo sviluppo dei traffici, ovviamente il settore delle merci. Il Presidente Di Maio ha detto che questo è un segnale perché Cidavecchia si apre anche a possibili sviluppi più ampi. Sì, sì, noi abbiamo molto apprezzato le parole del Presidente. Ovviamente giocare armi pari è il tentativo su cui noi stiamo lavorando, questo è un primo passo molto importante perché è anche la prima realtà portuale italiana in cui avviene un accordo di questo tipo, che ovviamente non è che privilegierà i trasportatori in assoluto, il trasportatore però dovrebbe essere messo nelle condizioni di poter competere nel rispetto della legalità, della sicurezza, della trasparenza, il che significa che chi fa tariffe troppo basse al di sotto di quello che è il buonsenso praticabile, evidentemente viene individuato come una posizione che è fuori dalla regola. L'efficienza delle realtà portuali e anche delle nostre imprese non deve essere in contraddizione con la sicurezza e con la legalità, ma anzi legalità e sicurezza aiutano ad avere un sistema efficiente e degno di un Paese civile.